Torna Piglia la Puglia, il quiz per i piccoli pugliesi targato Antonio Stornaiolo. Dal sabato e fino al 31 luglio 2010 la seconda edizione del programma andrà in onda ogni sabato e la domenica in replica su Antenna Sud, Delta TV, Telefoggia, Telerama, Telerama 1, Telesbeva e TRC. Con Stornaiolo il mago comico Francesco Scimemi, i cugini Massaro, interpretati da Boccasile e Maretti e Ilaria Turi, saranno protagonisti gli allunni pugliesi delle scuole elementari e medie inferiori. 24 puntate della durata di 36 minuti dedicate alle risorse agricole e agroalimentari del territorio pugliese e all'educazione alimentare dei più piccoli e degli adolescenti. L'obiettivo è far conoscere i prodotti tipici e approfondire alcune tematiche legate al mangiare e al vivere sano. Il programma televisivo è patrocinato e finanziato dalla Regione Puglia. In ogni puntata, realizzata da una masseria didattica della nostra regione, si affronteranno due classi concorrenti provenienti da due diverse città e istituti scolastici. Le domande saranno a risposta multipla e enricchite da filmati e foto. Oltre ai collegamenti con i giochi di prestigio del mago Scimemi e il duo di cabaret, alcune mascotte in gomma piuma riempiranno la scaletta del programma di gag frizzanti e divertenti. 10 volte bianco! Bianco, 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 bianco!